Come state? Sicuramente siamo bene, siamo in un periodo di forma, i risultati lo dimostrano. Cercheremo di continuare così e cerchiamo di ripetere il filotto di vittoria che abbiamo fatto all'andata. In trasferta questo Novara sembra volare forte, è una delle squadre che ha fatto più punti, come te lo spieghi? Noi giochiamo molto bene in contropiede, quindi quando le squadre fanno una partita molto offensiva, noi avendo giocatori molto veloci davanti riusciamo a sfruttare bene gli spazi che ci vengono lasciati, però noi cerchiamo di fare sempre la partita sia in casa che fuori e puntiamo sempre a vincere. Per te è un'altra buona prova anche contro il Pescara, tant'è che i tifosi ti hanno votato come migliori in campo, come MVP azzurro? Secondo me a Pescara ha vinto il gruppo perché ci siamo difesi bene in 11 quando siamo riusciti a portarci in vantaggio per 2-1, quindi il migliore è stato il gruppo secondo me. Il Bari è in reduce da una grande vittoria, che partita ti aspetti? Sicuramente sarà una partita difficile, il Bari è una squadra forte e quindi verranno qui sicuramente per vincere. Noi dovremmo essere bravi a controbattere e cercare di portare a casa i tre punti.